la partecipazione al grande fratello vip può rivelarsi un'arma a doppio taglio immediata popolarità successo attenzione ma allo stesso tempo minore credibilità nel campo della recitazione lo sanno bene jane alexander e gabriele rossi che hanno partecipato rispettivamente alla terza e alla prima edizione del reality show l'interprete italo inglese ha fatto chiacchierare con la sua storia con l'ex velino di striscia la notizia elia fongaro rossi invece è arrivato fino in finale raggiungendo il in una recente intervista jane alexander si è detta felice della sua avventura al gfvip dove ha tra l'altro capito che il compagno storico gianmarco amicarelli è l'uomo della sua vita ma alla lunga si è rivelato un problema per la sua carriera sapientemente divisa tra piccolo e grande a un certo punto per jane è stata scartata per tanti lavori importanti solo per aver partecipato ad un programma del genere jane alexander ha raccontato l'esperienza nel reality in sé è bella quel tempo sospeso è un regalo che non tutti possono vivere stare nella casa però non ha aiutato ora mi considerano peggio di prima anche nel cinema ha fatto il gfvip per noi non va più bene per fortuna ora si dopo un periodo di stallo complice pure la crisi da pandemia jane è tornata a recitare a breve usciranno due film in cui ha piccoli ruoli diversi si intitolano backstage dietro le quinte estate of consciousness stessa sorte quella dell'alexander toccata gabriele rossi di cui nell'ultimo periodo si è parlato molto per la sua vita privata rossi è oggi legato al cantante di x factor lorenzo licitra mentre qualche tempo fa ha amato gabriele gabriele rossi ha rivelato alla stampa con tono polemico un attore che fa il gf non viene mai visto di buon occhio per due anni non sono stato ammesso ai provini mi sono rialzato da un anno ci sono stati motivi per la partecipazione per esempio lavorare a mediaset nella fiction solo per amore quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere di fatto è una scelta che pretende un sì l'ho pagato sulla mia pelle insomma l'esperienza al grande fratello vip può essere un trampolino di lancio per alcuni concorrenti mentre per altri può mettere a repentaglio la carriera del resto si tratta di un pregiudizio che accompagna lo show fin dalla sua primissima edizione nip trasmessa ben 20 anni fa